I dati diffusi dall'osservatorio del turismo della regione Puglia parlano chiaro. Il flusso turistico pugliese ha inciso sul PIL regionale del 2010 per il 7,7%, su quello dello scorso anno per l'8,1%, le previsioni per il 2015 parlano del 9,7%. Dati che confermano quanto la Puglia piaccia ai turisti italiani e stranieri, poiché soltanto nel 2011 sono stati superati 3 milioni di presenze sul 95% delle strutture ricettive esaminate. Per questo la regione Puglia ha deciso di avviare un nuovo regolamento varato dalla Giunta e che prevede ulteriori incentivi per il turismo. Primo fra tutti il contratto di programma regionale che per la prima volta, oltre ad essere destinato alle grandi imprese, verrà esteso al mondo del relax, del tempo libero e delle vacanze attraverso l'introduzione del contratto di programma turismo. Chi investirà con questo tipo di incentivo avrà l'obbligo di garantire il numero degli occupati di partenza e allo stesso tempo di incrementare i posti di lavoro. Il secondo incentivo riguarda l'istituzione del titolo 2 turismo. Si tratta di una serie di aiuti riservati alle piccole imprese piccolissime, uno strumento che permetterà di fare investimenti da 30 mila a 4 milioni di euro con procedure snelle e con tempi ridotti. Infine, il terzo incentivo è tutto dedicato alla destagionalizzazione del turismo. Permetterà inoltre di restaurare immobili di interesse artistico e storico per trasformarli in strutture ricettive di almeno 7 camere, incrementando così l'offerta alberghiera.